Vai DJ, electric slide! Ragazzi, 3, 2, 1! Yes! Si parte! Eh sì! Electric slide! Ripeto, Let's go Country Style comunque sarà presente da settembre anche a Giarre perché abbiamo delle scuole su tutto l'Interland catanese quindi a partire da Paternò e a finire a Giarre quindi da settembre saremo anche qui E' il ballo dei Cowboys! Oh yeah! Ripeto, loro sono una minima parte della Cane Grand Ristyle, la Cane Grand Ristyle oggi dopo due anni compra 70 lievi ma loro sono i tenaci, loro sono quelli che ci seguono ovunque in più hardcore Vai col' l'uomo! Come fa come fa! Vai col' l'uomo! Come fa come fa! Grazie per la visione 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 Grazie a tutti